La differenza di genere esiste, ma io penso che se una donna possa permettersi di perseguire nella sua ricerca artistica è perché probabilmente ha trovato la sua stabilità economica molto organizzata. Penso che abbia voluto definire un'idea di famiglia con degli accordi molto equi, ma penso che questo valga anche per l'uomo, per l'artista uomo. Comunque secondo me dipende molto ovviamente da chi incontriamo, da chi ci innamoriamo, da quanti figli vogliamo avere o non avere.